bentri ragazzi sono mario a notta 6 e buoni in questissimo video ragazzi altro video commento siamo nella sesta tappa della treno triatico ragazzi e tris di roglic ha vinto a tortoreto ha vinto ieri sul sassotetto e vince anche ha vinto anche oggi a osimo questa tappa veramente è complicate senza un metro di pianura con diversi strappi muri e una tappa veramente bella la treno triatico è un qualcosa di spettacolare come percorso a voi subito un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti dovrebbe essere arrivato geogenhardt secondo e almeida terzo se non erro nella foto si vede anche ciccone comunque in sesta posizione quindi ragazzi per questo video può essere tutto voi iscrivetevi mi raccomando attivate la campanella per non perdervi nessun video domani ci sarà l'ultima tappa della tirreno una tappa per i velocisti mossa diciamo nella prima o meglio articolata nella prima parte e poi c'è il circuito a san metto del tronto quindi da me è tutto lasciate un bel like e non ci vediamo il prossimo video bello